La nuova serie Crystal di Corsair, contraddistinta da un design altamente elegante a un prezzo contenuto, è la punta di diamante di un'azienda che si è sempre contraddistinta in quanto al rapporto tra design e qualità del prodotto. Il Crystal 570X RGB è un mid-tower ATX la cui struttura è realizzata interamente in acciaio ed è caratterizzato da top, frontale e pannelli laterali in vetro temperato per garantire la massima resa visiva del proprio sistema. Il case è arricchito ulteriormente dal sofisticato sistema di illuminazione delle nuove ventole SP120 RGB fornite a corredo. L'ampio spazio offerto, unitamente ad un efficiente sistema di cable management, consente inoltre di ottenere un sistema pulito, libero dagli ingombri e soprattutto raffreddato alla perfezione in ogni sua minima parte. Il sistema è davvero semplice da pulire grazie alla presenza di numerosi filtri antipolvere facilmente removibili e lavabili sotto l'acqua. e ai pannelli in vetro facilmente smontabili e pulibili. A tale proposito, la generosa struttura offre la piena compatibilità con i più svariati modelli di radiatori e consente la realizzazione di un sistema di raffreddamento a liquido versatile, professionale, altamente personalizzabile e facile da mantenere. A completare questo ricchissimo quadro ci pensano la cover con il logo Corsair retroilluminato per l'alimentatore ed un efficiente sistema di storage completamente tool-less. Insomma, tutto ciò che un case stock di gamma di ultima generazione dovrebbe avere.